Ciao! Allora, allora, in questo video volevo farvi vedere alcune cosine, volevo partire subito da alcuni prodotti MAC. In questi giorni è uscita l'ultima collezione, credo che sia Beth Ditto, un po' prima è uscita la Sailor, non mi ricordo come si chiama, Sailor o qualcosa, comunque tema Marinaro, Marinaro si dice, comunque, scusatemi. Comunque si chiami, devo dire che non lo so, non mi è piaciuta, non mi è piaciuto, devo dire che già il packaging non mi è piaciuto, l'unica cosa che ho trovato molto molto bella era un ombretto verde, che comunque è simile ad alcuni ombretti che ho, quindi non l'ho preso. Comunque Beth Ditto, sono stata contentissima di vedere in questa collezione, sono i Pro Longwear, credo che siano 4 nuove tonalità, mi sembra, non lo so, io non conosco tutti i prodotti MAC a memoria, quindi, comunque questi, le ho trovate delle colorazioni molto carine. La mia preferita ha questo, questa sicuramente, scusatemi l'avevo preso là, ecco, che si chiama Dear Diary. Adesso, vedete, sì, a cieca quasi, e tenetevi forte, perché, perché? Volevo farvelo vedere applicato, quindi tenetevi forte, mettetevi gli occhiali da sole e, prego, è vivace o no? Allora, adesso voi lo vedete così, e potreste anche spaventarvi, perché? Perché ovviamente ho un trucco occhi davvero dramatic, intenso, quindi, e poi come colori non ci sta bene, ed è per questo che non l'ho, non l'ho utilizzato dall'inizio del video, dall'inizio del video, è intenso, brillante come colore, davvero uno di quei colori che dici, rispetto al quick sizzle, perché lo so che me lo chiederete sicuramente, se me lo ricordo, Giuliana ricordatelo, mi sono fatta il pre-memoria, vi inserisco, vi inserisco, nel box info, il link del video con, in cui ho, quick sizzle, in modo che potete vedere la differenza, questo è molto più vivace come colore, molto più brillante, è molto più, più sul rosa, che sul fucsia, questo lo metterei davvero, solamente con, con una riga di, di eyeliner, e basta, basta, perché, eh, a me piace tantissimo, immagino già qualcuno che sta, magari, eh, passando dietro di voi, e vede questa, con, con queste labbra neon, direi, si spaventano sicuramente, dopo avervi fatto vedere Dear Diary applicato, fatemi tornare normale, ah, ok, la matita, la matita è questa, che è assolutamente identica, perfetta, da, da applicare con, da applicare con il, con il rossetto, che, che vi ho fatto vedere, che si chiama Embrace Me, altro prodotto, sempre della stessa collezione, è il blush, che è questo qui, allora, lo so, lo so, questo è sempre il video, le cose strane, è molto, molto particolare, come colore, però, però, devo dire che applicato non è male, è questo, è il blush, l'ho applicato come blush, è una, una powder, quindi, non lo so, se volete provarla ad applicarla su tutto il viso, ma io, io la uso solamente come, come, la userei solamente come blush, e mischiando questi colori, comunque, l'effetto che si ottiene, è questo qui, che ho, sulle guance, se ve lo state chiedendo, il rossetto che ho applicato in questo momento, è uno dei nuovi Shine Creator, di Deborah, con la protezione, con la protezione 15, è una tipologia che va tantissimo in questo periodo, quella, la, la combinazione tra, ehm, rossetto e luce da labbra, ci sono alcuni colori che sicuramente sono più coprenti rispetto ad altri, la maggior parte, comunque, sono, sono sheer, sono molto luminosi sulle labbra, idratanti, hanno la protezione 15, bisogna usare la protezione tutto l'anno, ma soprattutto, adesso, d'estate, quando i raggi diventano un po' più forti, è importante proteggere le labbra, perché, ehm, è una cosa di cui ci dimentichiamo sempre, proteggiamo la pelle, ma non ci ricordiamo di proteggere le labbra, altro prodotto, questo però ancora non l'ho usato, questo qui, la consistenza è cremosa, ed è un prodotto che può essere usato sia sulle, eh, sulle labbra, che sulle, sulle, sulle guance, quindi sicuramente ne parlerò o in uno dei prossimi video, o sul, sul, sul blog, e cercherò comunque di mettere le foto di tutti questi prodotti anche sul blog, in modo che possiate vedere bene sia il prodotto che, ehm, che l'applicazione. Un, un altro prodotto, credo che sia l'ultimo, che ho preso da Mac, non so se è uno, un prodotto nuovo, devo essere sincera, non lo so completamente, comunque è un, un primer, un primer che, ehm, il, il packaging è quello di una, di una cipria compatta, però prenderlo, aprendolo, è un primer solido, eccolo, quindi, praticamente si, si, si applica con le dita, se volete applicarlo con un pennello, con una spugnetta, ma credo che con le dita forse sia, sia, la, ehm, vada benissimo, ehm, la consistenza è quella comunque di un primer, ehm, a base siliconi, siliconica, a base siliconi, quindi ha, ehm, la funzione è quella di creare un, ehm, una superficie liscia, in modo che, ehm, l'applicazione sia migliore, la durata sia, sia maggiore. Soprattutto, eh, questa è una cosa che ricordo ogni tanto, mi piace dirla, il, ehm, i primer sono sicuramente l'unica alternativa, l'unica risposta ai pori dilatati, perché, e io li ho, soprattutto qui nella zona delle guance, perché non esiste niente, potete tenere i pori puliti, assolutamente, sì, scrub, eccetera, eccetera, però, però, eh, eh, è impossibile che vadano via, è impossibile letteralmente restringerli. Quindi, come si può fare per minimizzare l'aspetto del, dei pori? Sicuramente usare un primer, perché, appunto, il primer dà l'illusione di avere una pelle più liscia, e, ehm, in parole, in parole semplici, riempie, come se riempisse i pori. Ho preso due nuovi, due nuovi, ehm, color tattoo Maybelline, questo viola, e questo, che è un, cos'è, un melanzana, che comunque è quello che ho applicato, eh, oggi. Farò la review sul, se non l'ho già messa, la farò la, farò la review sul, sul blog per entrambi. Eh, vi dico subito che di uno sono rimasta, eh, soddisfatta, di un altro, non tantissimo, e parlo, soprattutto, di applicazione, ho avuto davvero problemi ad applicarlo, e comunque parlo del, di quello viola. Sono, ci sono tornata davvero diverse volte, perché non riuscivo ad applicarlo in maniera uniforme, quindi è strano, perché in passato li avevo usati, e mi ero trovata davvero bene. Con questo mi sono trovata bene. Con questo, invece, con quello viola, non so perché. Ditemi se avete avuto dei problemi anche voi con, 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 con questi, magari con colori diversi. Un prodotto che ho scoperto da poco, eh, l'ho preso da Sephora, ed è del Dottor Pericone. Dottor Pericone, che ormai è, da anni, ha dei prodotti ormai da tantissimo tempo, è un dermatologo, credo che sia un dermatologo. Eh, ho, ho letto alcuni suoi libri, comunque mi piace molto, non ho preso, credo che questo sia, o il primo o il secondo prodotto che compro, eh, della, della sua linea. Comunque questo, uno di quei prodotti per me, innovativi. E si chiama No Concealer Concealer. Io lo definisco come la BB Cream per occhi. Perché? Ve lo faccio vedere. Lui, sì, ha questo stile molto, eh, para, parafarmacè, 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 dico, parafarmacèutico. Vabbè. Innanzitutto, un colore universale. Questo è un colore universale che, io l'ho provato sulla mia pelle, sulla mia pelle va bene. Non posso dire, insomma, il risultato su una pelle più scura, sicuramente da, da provare. In questo unico prodotto c'è crema idratante, anti-età, correttore e protezione, protezione 35. Quindi, quindi, adesso capite perché lo definisco la BB Cream per gli occhi. Perché, appunto, ha tutte queste funzioni, tutte queste proprietà in un unico prodotto. Quindi, sicuramente un prodotto pratico. Perché, invece di applicare al mattino, applicare la crema idratante, il correttore. Voi lo sapete, il trovare, è davvero difficile trovare, anzi, ultimamente ci sono più prodotti. Comunque, in passato, era davvero impossibile trovare una crema per gli occhi con la protezione. Per me è sempre stata una cosa strana, perché la pelle intorno agli occhi è così sottile, così delicata, che non avere una crema con protezione specifica per la zona per gli occhi, per me, era davvero una cosa, una cosa bizzarra. In passato ho usato quella della Clinique, che credo che, almeno fino a un paio di anni fa, era l'unica crema per il contorno agli occhi, a meno che io sappia, con la protezione. Adesso, spero che, insomma, mi sembra che ce ne siano diverse. Comunque, a quel tempo, era una delle poche. Quindi, lo ripeto, a me piace tanto, piace tanto perché ha tutte queste proprietà e, in più, devo dire che ha una buona coprenza. Mi sono trovata davvero bene. È molto delicato, non va a finire nelle pieghette, che questa è una delle cose più importanti. Ho fatto le foto prima e dopo, anche queste le pubblicherò sul blog, in modo che possiate avere un'idea. Non ha una coprenza altissima ed è un correttore, ovviamente, a questo qui parliamo solamente di zona intorno agli occhi. Non è un correttore per andare a coprire tatuaggi, è un correttore per la zona intorno agli occhi. Alcuni prodotti, la volta scorsa vi ho fatto vedere la crema per gli occhi Kiehl's. Ho preso altri due prodotti. Uno è il Midnight Recovery Concentrate, che è un olio da usare di sera. Non è un siero, ma è, allora, aspettate, con il contagocce. Non è un siero, quindi può essere anche applicato da solo, senza mettere, credo che funzioni meglio, senza mettere la crema sopra. Volevo provarlo, non mi piacciono tantissimo, appunto, essendo un olio ti lascia un po' unta. Però ho sentito dire davvero tante cose positive, ho letto tante review positive su questo prodotto e ho detto, vediamo. Prefisco applicarlo un paio di ore prima, così la pelle resta comunque unta. Però, sicuramente, mi stavo affogando. Un altro prodotto sempre Kiehl's è l'Abyssin Cream. Ci sono due versioni, una è senza protezione e una con la protezione 23. Mi piace perché è ottima sotto il trucco, la uso sotto il trucco, e poi è una crema che lascia la pelle opaca. Quindi è perfetta sotto il trucco, perché si assorbe rapidamente. E mi ricorda tantissimo la crema, che comunque io uso, continuo ad usare spesso, della Neutrogena Ultra Sheer, che lascia, appunto, arriva a delle protezioni altissime. Credo che la più bassa sia 30, 45, 55, 75, la più alta credo che sia 110. E comunque resta sempre opaca sulla pelle. Non solo la 110, non l'ho provata, l'ho vista, ma mi sono quasi spaventata. Ho detto, non la lasciamo perdere. Forse se resto tipo di un'isola deserta, senza alberi, mi metterei quella. Credo di avere usato la 75. È anche quella davvero opaca, leggera. E credo che sia tutto. Io, come al solito, guardo, controllo, vediamo se mi sono dimenticata qualcosa. No, non penso. E come al solito, spero che abbiate trovato questo video utile. Un bacio, ciao!